Aveneo deciderà di chiamare Damalto o rimetterla per metterla all'interno. E' il canestro di Ravivio alla lunga distanza. Esce per Matteo Caridà, si deve andare da Bortolini, si va, si gira, tira il Bortolini e allora la partita finisce qui. Regnano mette fine alla striscia di sconfitte, passa al Del Mauro, 73-72 con il canestro pescato per terra di Ravivio, ma una partita equilibrata, tutto poteva accadere, lo abbiamo detto.